3, 2, 1, action! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Cobra, Scacchi e Passione. Ciao a tutti! Prima di andare voglio ringraziare Giuseppe che ci ha fatto una donazione, grandissimo Giuseppe, e voglio dirvi che questo è il primo contenuto di questo tipo che porto. Infatti andremo a commentare la partita Nakamura-Karuana che si è svolta ieri al torneo dei candidati. Secondo me è stata una bella partita, c'è stata una combinazione devastante, io quindi vorrei andarvi a farla vedere e andiamo su Scacchiera. Come vi dicevo questo è il primo contenuto di questo tipo che porto, il commento sarà fatto a modo mio, quindi nel mio stile, come voglio, per cui andiamo a vederla. Allora, Nakamura-Karuana. Nakamura inizia con E4, vi lascio comunque a video il motore con le linee, però non lasciamo attaccata direttamente per vedere la partita. Allora, E4-E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, la spagnola. Nakamura ha giocato, ma anche altri, durante questo tornato dei candidati hanno giocato moltissimo la spagnola, quindi rientra appunto in questa apertura, che tra parentesi è tra le più forti e le più usate in questo momento. Quindi, ah, gioco anche io spagnola, quindi è così. Allora, quindi, A6, torna indietro con l'alfiere e sviluppa il cavallo in F6. Questa è la variante Morphy, quindi la variante Morphy, una delle più classiche. Adesso la principale è a Rocco Corto, ragazzi. Questo, vabbè, sono cose che su questa apertura si sanno, si sanno. E poi c'è la seconda, o terza del motore, adesso non ricordo, in cui si spinge D3 a proteggere E4. Nakamura fa la variante con D3. D3 è stata portata anche alla ribalta da Garsen negli ultimi anni, per cui fa D3, difende il pedone E4 che era minacciato, in questo caso. e Caruana sviluppa l'alfiere in C5. Questa è la variante Andersen. È una delle più aggressive su questo impianto della spagnola, perché comunque si sviluppa un pezzo in modo attivo sulla casa C5 a puntare direttamente la casa F2 del bianco. Quindi si fa uno sviluppo attivo che cerca appunto di portare un altro attaccante su una casa difesa solo da Re. Le case reali. Se volete sapere di che cosa si parla in merito alle case reali, vi rimando al video che ho fatto con il maestro Corvi, che è un grandissimo, grandi. A me il metodo delle case reali, cioè di andare a minacciare delle case attorno a Re, che sono difese solamente da Re, mi ha veramente aiutato. Detto questo, lui punta F2, Nakamura, in questo caso, mette al sicuro Re, quindi a Rocco Corto, e Caruana spinge D6. Siamo in piena fase di apertura, quindi Caruana spinge D6, apre la diagonale a questo alfiere, cementa il centro, e eventualmente non ci sono poi altri affermato, diciamo. C3. C3 da parte di Nakamura, perché obiettivamente la spinta in D4 diventa davvero forte, quindi C3 sostiene la spinta in D4, e la formazione di pedoni diventa sorella del gioco pianissimo, del gioco piano, gioco pianissimo, di questo tipo di posizioni. Quindi C3 è una mossa molto naturale in questa apertura, si cerca di spingere D4, e di avere il centro. Nakamura arrocca, Torre E1, da parte di... cioè Caruana arrocca, Torre E1 da parte di Nakamura, perché in questo caso se avesse spinto a D4, dopo i cambi, E4 sarebbe stata in presa, e molte volte io l'ho lasciato in presa, ragazzi, non vi nascondo nulla. E quindi, comunque Torre E1 è una... lo vedete poi dalla precisione di Nakamura, sono tutte mosse, queste da libro, che si fanno, le migliori. Allora, Caruana comincia con il classico piano di girare i cavalli, perché nella spagnola e anche nell'italiana, se si riesce a mettere un cavallo comunque in F4 da parte del nero o in F5 da parte del bianco, vedete che controlla case... il cavallo in F5 controlla G7 eventualmente, la stessa cosa F4 controlla G2, potrebbe andare a dare scacco poi in H3 o H6, se parliamo del nero o del bianco, e quindi un cavallo in queste due case da parte del bianco un cavallo in F5, da parte del nero un cavallo in F4 diventa fortissimo. Quindi comincia a girare quei cavalli. Nakamura, lo stesso, cerca di portare un cavallo dalla parte del lato di rete, quindi cavallo G6, e qui stessa cosa, cavallo F1 per girarlo poi in G3 e raggiungere F5. Ovviamente qui, ragazzi, se Caruana mettesse il cavallo F4 adesso, secondo me Nakamura ci sfonda sopra un alfiere e quindi non vale la pena cambiare un cavallo che ha mosso quante mosse ha fatto per andare quattro mosse contro un alfiere che non è fatta nessuna. Se mette il cavallo in F4, poi l'alfiere cambia e questo pezzo si muove una volta contro un pezzo che si è mosso una, due, tre e quattro volte. Quindi quattro tempi contro uno e il bianco va in vantaggio. Allora, qui Caruana spinge sul centro, vuole comunque prendere spazio, spinge sul centro, dopo che ha fatto questo giro con i cavalli, tutto molto naturale. Allora, Nakamura sceglie di prendere, prende col cavallo e alfiere B3. Alfiere B3 ha guardare comunque una casa sul re a raggi X. Quindi, allora, Caruana cementa questo cavallo, quindi con C6, non lo sposta e Nakamura comunque spinge in D4 adesso e sceglie, riprende col cavallo, ritorna, Caruana ritorna con il cavallo in F6, H3 da parte di Nakamura perché così si impedisce eventualmente alfiere in G4. Cambio, cambio, quindi Nakamura adesso ha il pedone isolato, diciamo che Caruana ha deciso di sacrificare la coppia degli alfieri per fare un pedone isolato a Nakamura e in questo caso diciamo cercherà poi di andare, il piano sarà quello di andare in finale e cercare di prendere questo pedone isolato che in finale diventerà una debolezza. Quindi, cavallo D5 da parte di Caruana ovviamente sposta cavallo D5 sempre per attivarlo in questo caso secondo me centralizzare un cavallo poi magari portarlo veramente su F4 anche se non è o in un'altra casa ancora più offensiva tanto qui un difensore sulla Rocco c'è da B3 e ovviamente toglie la toglie la diagonale forte all'alfiere in B3 tanto più che Caruana decide di spostarlo ovviamente quindi da B3 lo porta in C2 a minacciare sempre una casa difesa solamente da Re. Quindi detto questo al F4 da parte di Caruana cementa ancora il cavallo in D5 allora io non ho visto altri commenti non ho visto altre partite la sto vedendo insieme a voi l'ho vista un paio di volte anche in live quindi queste sono tutte mie considerazioni se eventualmente i piani sono diversi o comunque dovessi sbagliare in qualche modo vi chiedo di scrivervelo nei commenti grazie mille ragazzi allora detto questo cavallo in F4 appunto come dicevo è molto forte un cavallo in F4 Nagamura mette torre 4 aumenta la pressione sul cavallo adesso è difeso solamente dal cavallo in G3 quindi sarebbe una torre per cambiare questa torre sul cavallo non se ne parla cioè in realtà il pericolo è cambiare questa torre sul cavallo perché si prendono due pezzi per una torre quindi Karwan è costretto a spostarlo e ritorna in D5 quindi diciamo sta è dovuto tornare indietro non è buonissimo quindi cavallo A3 torre 8 mette la torre su una colonna aperta e contesta la colonna Nagamura alfiere D2 cavallo F6 a minacciare la torre ora cavallo F6 a minacciare la torre quindi per me prende un tempo questa mossa Karuana la lascia addirittura in presa perché inchioda il cavallo sulla donna quindi H6 segnata come mossa forte da parte del del motore cambio cambio deve dare via per forza la coppia degli alfieri Karuana altrimenti tornare indietro poi non avrebbe più tenuto l'inchiodatura perché questa casa è controllata dal cavallo ragazzi quindi se torna indietro è semplicemente prende prende poi la torre può andare lì ma non comunque darebbe via la coppia degli alfieri in modo meno forte quindi donna F6 donna D2 donna D2 e Karuana come dicevamo cercando di entrare in un finale e sfruttare il pedone isolato di Nagamura cerca di cambiare le donne rifiuta il cambio Nagamura con torre 3 e cavallo nuovamente il cavallo in F4 perché è un è un pezzo forte in F4 come dicevamo allora Nagamura spinge H4 Karuana non prende H4 perché obiettivamente poi allora sulla presa vediamo un attimo sulla presa segue torre 4 si inchioda il cavallo e quindi diventa diventa pericoloso detto questo quindi spinge donna D5 torre 4 difesa dal pedone scusate dall'alfiere e torna in G6 raddoppio delle torri siamo quasi per arrivare al punto clou della partita raddoppio delle torri Karuana torna indietro col cavallo ha fatto tantissime mosse con questo cavallo effettivamente al motore non piace la posizione del nero perché è molto più passivo anche a mio avviso detto questo intanto Nakamura prende un tempo torna indietro con la donna Karuana e spinge H5 questo lo segna come errore ma non io sinceramente non riesco a vederlo come errore questo di Nakamura forse ha cementato questo questo pedone sulla sulla colonna H in modo che gli impedisce spinte come G6 o spinte che possono difendere e quant'altro quindi non credo di capire effettivamente perché il motore lo segna come come un errore forse ha sprecato una mossa e c'era qualcosa di più forte qui dice torre 1 in E3 ah facendo tipo rock lift poteva fare un rock lift secondo il motore però comunque H5 non mi sembra una mossa diciamo che è un errore pieno non lo so detto questo il tiene comunque un pochino di vantaggio il bianco e qui diciamo che secondo me comincia a fare l'errore della partita torna indietro con l'alfiere Caruana una degli errori della partita perché torna indietro con l'alfiere Caruana tentando il cambio di entrambe le torri ma è un po' passiva è un po' passiva comunque come vedete il nero ha molto meno spazio del bianco i pezzi stanno tutti sulla sulla prima riga ragazzi quando si hanno tutti i pezzi sulla prima riga non è mai buono e invece i pezzi del bianco sono tutti sviluppati tutti che hanno un obiettivo quindi come vedete ha fatto una mossa abbastanza passiva Nakamura cambia cambia anche Caruana e qui porta il cavallino F5 come vi dicevo un cavallino F4 da parte del nero un cavallino F5 da parte del bianco è veramente forte è veramente forte in questo tipo di impianti anche in generale se si riesce a tenere un alfiere qui è veramente forte donna F6 da parte di Caruana e donna B4 a controllare questa diagonale ora qui è stato fatto un primo errore da parte di Caruana ma adesso questo segnato anche come errore grave da parte del motore come vedete la barra va a più 8 è l'errore che segna la partita io ho cercato di capire perché ha messo B5 come vedete ci ha messo due minuti ci ha pensato due minuti un grande maestro del calibro di Caruana comunque avrà pensato a diverse cose una mossa voglio dire che una mossa sbagliata può capitare a chiunque ragazzi campioni e quant'altro questo è stato un errore io personalmente non l'ho capita subito la combinazione Nagamura invece la mette mette subito questa combinazione devastante che ora vi faccio vedere come comincia ho cercato di spiegarmi B5 che cosa poteva diciamo che cosa poteva prendere io come giocatore medio l'unica spiegazione che mi do è di prendere spazio sul lato di donna da parte di Caruana e poi spingere anche in A5 con tempo e quindi prendere diverso spazio e cominciare a spingere con la maggioranza sul lato di donna però questo da vita a una combinazione devastante da parte di Nagamura che comincia con cavallo e 7 scacco è devastante cavallo e 7 scacco perché il re di Caruana è costretto nell'angolo ragazzi ricordatevi che nelle partite di scacchi se si riesce a costringere questa è una cosa che mi ha detto un candidato maestro Leonardo che ringrazio se sta vedendo il video mi ha detto sempre che bisogna cercare di spingere all'angolo il re avversario negli scacchi per avere poi una posizione davvero forte in questo caso l'ha spinto all'angolo spinge all'angolo con cavallo e 7 scacco lo spinge perforzatamente all'angolo il re avversario e in questo caso poi dopo di questa viene la mossa che fa abbandonare Caruana che è cavallo di 5 in presa in presa ma andiamo a vedere se il se viene preso qui c'è direttamente matto perché su questa c'è matto in 1 ragazzi quindi su c per d5 su cavallo su c per d5 segue matto in 1 inoltre questa mossa che fa minaccia la donna minaccia la donna che per evitare il matto in 1 non ha non ha possibilità se non fare quello che propone il motore che adesso vediamo la linea perché è bellissima questa mossa è bellissima cioè spettacolare a me ovviamente non sarebbe mai venuta in mente ma loro sono veri campioni quindi cavallo cavallo di 5 in presa che minaccia la donna e minaccia matto in 1 in questo caso l'unica l'unica alternativa l'unica cosa che trova il motore ci sono diverse linee che lo fanno andare a più 10 come vedete più 10 e quant'altro come cavallo di 7 cavallo di 7 eventualmente a proteggere questa casa oppure la prima del motore ma comunque perdente c5 poi segue donna per c5 cavallo di 7 come dicevo a proteggere comunque questa casa dopo aver preso g5 cavallo per f6 cavallo per f6 cavallo per c5 torre per e8 torre per e8 cavallo per e8 e come vedete il bianco ha un pezzo netto in più è riuscito a salvare la donna ma a costo di un pezzo netto ritorniamo in questo caso su questa mossa che è devastante caruana ha abbandonato però vediamo un'altra linea quella che abbiamo visto prima è con c5 tutte le altre linee tipo cavallo di 7 a proteggere qui comunque sono perdenti perché segue poi cavallo per f6 cavallo per f6 e il bianco si trova con la donna al costo di un pezzo quindi comunque a questi a questi livelli in generale a tutti i livelli è stravinta andiamo a vedere che cosa avrebbe dovuto fare caruana invece di b5 invece di b5 il motore fa alfiere di 7 perché perché in questo caso c'è sempre cavallo scacco eventualmente la possibilità di cavallo scacco c'è si spinge forzatamente il re all'angolo ma in questo caso ragazzi adesso come vedete la posizione è più o meno pari anche se sta leggermente meglio il bianco perché questa combinazione non sussiste più il cavallo qui è difeso e semplicemente se se lo mette in presa il nero se lo prende quindi questa secondo me è stata una combinazione devastante vedete il con adesso se mette alfiere d7 invece che che b5 la combinazione non si dà più vita alla combinazione rivediamo un attimo quindi donna b4 b5 da parte di caruana segue la devastante cavallo d7 scacco re h8 e cavallo d5 in presa che mette fine alla partita allora io sono contento di avervi fatto vedere questa partita ditemi se vi è piaciuto il commento la prima che faccio di questo tipo ma la combinazione mi è piaciuta troppo e volevo farvi vedere detto questo io non scriverò nel titolo caruana devastato caruana distrutto così dirò combinazione devastante come ho detto prima perché una partita ragazzi si può perdere chiunque può perdere una partita chiunque può lasciarsi sfuggire anche a questi livelli combinazioni davvero forti sono sicuro che comunque caruana è un campione vedremo se nel torneo riuscirà a riprendere altri punti a farsi sotto per per andare a prendere magari altri altri posti in classifica vediamo comunque io vi ringrazio per avermi seguito sono contento di aver fatto questo video ditemi che cosa ne pensate nei commenti se volete continuare a supportarmi ragazzi io vi chiedo di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e un'iscrizione al canale che è gratuita detto questo io vi ringrazio vi saluto e vi dico ciao ragazzi alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.